L'allarme e criminalità a Cerignola scatena l'ira del sindaco Franco Metta. Prima nei nostri studi, ospite di Gianni Ciccolella, poi nel suo ufficio nel municipio di Cerignola per scaricare la sua rabbia su Facebook. Franco Metta nel video pubblicato sulla sua pagina rilancia la sfida alla malavita. Siete maledetti, dice Metta, uscite di notte come gli scarafaggi e come i topi per colpire la povera gente che lavora, la povera gente che fa i sacrifici per buttare nel panico questa comunità che sta facendo di tutto per risolversi. Siete maledetti, siete quattro vigliacchi, noi non vi lasceremo questa città, combatteremo fino alla fine per Cerignola. Siate stramaledetti, il video sta diventando virale sul web, i toni sono fortissimi.